le video ricette di cuopperetti, le polpette di pollo, le polpette di pollo abbiamo bisogno di 50 grammi di canne tritta, 25 grammi di ricotta ezzo uovo, ma potete usare anche un uovo intero il sale e il pan gattato in una ciotola mettere la carne tritta, la ricotta, l'uovo e il sale ripeto, la carne tritta, la ricotta, l'uovo e il sale vedete com'è, guardate com'è venuta dovrebbe venirvi così mescoliamo il tutto, mescoliamo il tutto tutta questa poltiglia, tutta questa poltiglia, tutta questa poltiglia mescoliamola ho fatto è un produsione industriale adesso dobbiamo formare delle polpette con le mani, con le mani una volta preparate le polpette bisogna passarle nel pan crattato le sale sono già pronte, guardate, guardate che belle, guardate che belle dobbiamo prendere una padella guardate dobbiamo versargli dobbiamo versargli dell'olio occhio, occhio dobbiamo versargli dell'olio guardate, guardate mi sembra che l'olio sia stato versato bene e adesso mettere le polpette dentro la padella ecco qua ecco fatto, guardate che belle, guardate che belle accendere la piastra, accendere la piastra impostare, impostare 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 le polpette e ogni tanto girarle una volta cotte le polpette dovrebbe venirvi un risultato simile guardate me belle dorate tutte pronte per essere mangiate con questo io vi saluto vi do l'appuntamento la prossima settimana a questo giro saluto Giuseppe Cortese ciao Giuseppe ciao Giuseppe ciao Giuseppe ciao Giuseppe